Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con una custodia della Skill Forward, nello specifico parliamo della versione che si chiama Arm Band che costa 30€, 29,99€ per essere precisi. Procediamo adesso all'apertura della scatola, utilizziamo un coltellino tascabile, vediamo se riusciamo a non danneggiare la custodia. In questo caso vedete ci sono tante sezioni in velcro, in modo tale poi da poter chiudere sul braccio la custodia, questo è un braccio magari tipo coscia, però in ogni caso l'effetto è stato più che chiarificato. Come vedete in questo modo si può inserire l'iPhone e si può poi procedere al completamento di un'attività sportiva senza avere particolari problemi. Adesso proviamo a inserire l'iPhone in sé, togliendo tutto ciò che non serve. vediamo se riusciamo a inserire l'iPhone senza far volare nella videocamera, nell'iPhone, perfetto. come vedete l'iPhone calza perfettamente, il retro è fatto in modo tale che non crei particolare fastidio nel caso si iniziasse a sudare e quindi si potrebbe generare una fastidiosa sensazione di scivolamento tra la superficie della custodia e la propria pelle. In questo caso poi io posso completare il montaggio in questo modo e in questo modo posso poi fare una corsa, posso fare jogging, posso fare un po' quello che voglio senza particolari problemi. La custodia in questo caso frontalmente riporta questo strato di nylon che permette anche per esempio una protezione nel caso di attività sportive presenti in un ambiente umido come la protezione dell'iPhone in sé. Certo, comunque la custodia non impermeabilizza l'iPhone, quindi se fate kayak, sicuramente il telefono potrebbe risentirne nel caso finiste fuori dal gommone, però nel caso di attività sportive di uso comune anche ci fossero degli schizzi o comunque gocce di sudore che possono comunque essere prodotte dallo sforzo fisico, non ci sono particolari problemi. ottima custodia davvero. Come vedete in questo caso c'è presente anche il marchio, vediamo se riusciamo a farlo vedere. Eccolo qui. Custodia semplice per 30€ è sicuramente valida. A presto con altre custodie da Giuseppe Ragozzino. Salve a tutti, sono sempre Giuseppe Ragozzino. Prima ci siamo dimenticati di far vedere il fatto che accendendo l'iPhone è tranquillamente accessibile sia il vano SIM che lo slot del jack da 3,5 e il pulsante power on, power off. In questo caso possiamo tranquillamente accedere al nostro iPhone, non ci sono problemi di sorta, come avete visto lo slide avviene anche attraverso proprio la custodia in sé, quindi anche nel caso ricevessimo una telefonata, ricevessimo un messaggio, dovessimo comunque utilizzare il telefono o cambiare semplicemente traccia all'interno della nostra attività sportiva, ci viene concesso senza particolari problemi. Come avete visto possiamo inserire anche poi nel caso un iPod touch, tanto il form factor è il medesimo, è semplicemente un po' più fino. Con questo è veramente tutto, dalla custodia arm band ci possiamo quindi aspettare protezione del terminale e comfort durante l'utilizzo quotidiano. A presto, un saluto da Giuseppe Ragozzino.